Non cinque Robin! Oh no, quello è il suo lato folle! Devi essere perfetto, devi essere perfetto, devi essere perfetto! Oh no, perfezionista è il lato peggiore! Perfetto, 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 perfetto! So che sei stato tu, di la verità, ora parla, parla! Questo deve rappresentare il suo lato ossessivo. Non sono ossessivo, sono solo concentrato sui dettagli e questo a fare di me un grande detective, parla! Ce l'hanno tutti con me, tutti con me! Andate via, andate via, 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 via! Riconoscere le tue paranoie dovunque! Titans, go! Go! Perché nessuno di voi si muove? Ascoltatemi! E il maniaco del controllo, fine. Sì, conosco bene tutti e cinque. Dobbiamo rimettere i Robin dentro il prisma! Questo mai! Non riuscirete mai a ricombinarci! Aiutateci, Silky! Siete la nostra sola speranza! Qui ci sonoutiche così! Oh! 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 Ah, 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 ah! Yeah! Yeah! OBBEDEDE! Scusate, ragazzi. Pensavo che i tratti della mia personalità fossero migliori. E come dicevi, siamo più grandi della somma delle parti. Vale per tutti. Non proprio tutti. Oh, Eila. Scusate, ragazzi.